Ciao, io sono Francesca. Ciao, io sono Alessio. E in questo video vi faremo vedere cosa abbiamo fatto durante l'alternata. Abbiamo appena i nostri rossi. Devono rifare tutto il cortile. Ma la copertura. Quindi il barattolo. Il barattolo. Siamo in ascensore, stiamo salendo all'ultimo piano. E praticamente lì sotto c'era Alexia Forlì. E ancora prima c'erano le costruzioni romane. E infatti hanno trovato delle stradine. Raccontagli un po' il barattolo. Il barattolo, cosa c'è il barattolo? Praticamente loro metteranno, hanno messo un barattolo con tutte le loro foto. E anche la nostra. E anche la nostra, abbiamo messo anche la nostra. E abbiamo scritto qualche cosa. Dopo dopo metteranno il barattolo nel calcestruppo che penso. E chissà. Ciao. 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 Dobbiamo fare un rilevo di svolta appartamenti per vedere se ci sono i suoi quali. E poi dobbiamo fare un progetto in auto in caso di un portavice colore. Non mi piacciono. Non mi piacciono. Non mi piacciono. Saluti mostrano. Non mi piacciono. Un piacciono. Facilitare un po' il barattolo. Non mi piacciono. membrane� va re vào. Non. Siamo sempre nel cantiere di prima, però stiamo facendo un altro appartamento e prendiamo sempre le mie due... Noi, dica ma... Seconda settimana... Ora stiamo entrando nel municipio di Sarsina per tenere un incontro con il sindaco e riguarda una questione che vi illustreremo in seguito. Nara, ci dì questa esperienza con il sindaco. Allora, questa esperienza mai fatta. Abbiamo parlato un po' con il sindaco per fare questi appartamenti che hanno già deciso dove farli, hanno già fatto una piantina, stanno decidendo il costo di molti appartamenti, se fai prima di gli appartamenti e dopo farne degli altri, fare una sala. Noi, formalmente, parlate sui appartamenti. Ora stiamo tornando all'Acer per continuare il nostro lavoro dei 28 appartamenti e domani andremo a Bologna in occasione del Salone Internazionale della Ceramica. Siamo a Bologna. Siamo a Bologna. Siamo a Bologna. in conclusione questo è ciò che abbiamo fatto durante le due settimane in stage e vorremmo fare un ringraziamento comunque all'Axer che ci ha ospitato tutti e due grazie mille e arrivederci